Dobbiamo continuare ad essere presenti lavorando senza vedere la politica come competizione alla conquista di poteri e poltrone, ma al contrario portando un servizio alla collettività. Dopo essersi riunita sabato scorso l'Assemblea Generale di Bene Comune ha deciso all'unanimità. L'associazione manterrà un ruolo politico e culturale rinnovando gli sforzi per costruire una nuova idea di città dove vengano salvaguardati e promossi i beni comuni. Come primo passo verso una nuova fase è stato eletto nuovo presidente, Matteo Giuliani, al posto di Carlo De Marchi e il nuovo direttivo. Si trattava oggi di rivalutare quali erano i percorsi, le strade e veramente le cose in cui Bene Comune può essere utile ancora nella nostra città. C'è stata la disponibilità della generazione che era stata tra i fondatori anche del nostro gruppo. Oggi sono 40-50 anni che garantiscono a questa nostra iniziativa, a questa nostra esperienza, la possibilità di offrire nuovi spunti, nuove riflessioni. Per far questo hanno dato vita un laboratorio politico, sociale e culturale aperto a tutti coloro che vorranno contribuire a realizzarlo. Avrà lo scopo di promuovere il dialogo, scambiarsi esperienze e competenze, arricchendo così le relazioni tra le varie realtà di cittadinanza attiva. Riteniamo di impegnarci nella promozione di un laboratorio politico che possa essere aperto a tutte le forze, le associazioni, i movimenti che sono interessati e che da tempo si battono sempre per la promozione dei beni comuni, perché all'interno di questo laboratorio si possa elaborare un progetto, iniziative e idee nuove per la città e per il suo entroterra. Porgendo i migliori auguri di buon lavoro al presidente di Benecomune, il Movimento 5 Stelle di Fanno ha voluto ringraziare pubblicamente Carlo De Marchi. Fu proprio lui, infatti, nel 2009 a creare il gruppo De Grillini e a dimettersi un anno dopo permettendo a Dada Romiccioli di entrare in consiglio comunale. I pentastellati inoltre hanno rinnovato a tutti gli esponenti stima e desiderio di condividere future azioni politiche, visto che, come si legge in una nota, l'espressione di un'idea di città diversa e migliore è quella che ha unito per tanti anni la storia delle due liste civiche e ne sono certi, lo farà anche in futuro.